bene ragazzi allora ci avete chiesto in tanti quali quali caratteristiche quali differenze ci sono tra queste queste simpatiche macchine le mini lucidatrici a sinistra abbiamo la rupes nano hybrid nel mio caso quella con il collo lungo e a destra invece abbiamo la la nuovissima flex pxe 80 dunque come detto nel video di presentazione della flex non è mia intenzione schierarmi da una parte o dall'altra per dire qual è la macchina migliore però giustamente qualcuno che si sta chiedendo quale macchina acquistare vorrei dare qualche informazione interessante allora cominciamo dalle dimensioni ora io le allineerò dal cellulare probabilmente non sarà possibile vedere molto la differenza però qui abbiamo 5 cm di differenza di altezza quindi la rupes nano hybrid in configurazione collo lungo è un pochino più lunga della flex gli ingombri delle macchine ovviamente sono differenti abbiamo un corpo un pochino più affusolato per la rupes nano hybrid qui abbiamo una bella batteria grossa che è sicuramente la parte più ingombrante della della flex e anche il corpo è leggermente più grosso qualcuno ha giustamente fatto notare che c'è una sostanziale differenza nelle dimensioni della delle due teste sicuramente la rupes nano hybrid ha la possibilità di infilarsi in maniera più agevole nelle nelle forme complesse questa qui come vedete un bel testone grosso quindi probabilmente qualche difficoltà ce la darà io per esperienza vi posso dire che ho acquistato la nano hybrid per per lo stesso motivo per infilarmi nelle zone anguste ma non è detto che questo ingombro sia comunque sufficientemente piccolo infatti talvolta qualcuno si è creato delle prolunghe per infilarsi in posti più difficili cosa che probabilmente sarà possibile anche per quanto riguarda la flex quindi sì ci sono delle sostanziali differenze a livello dimensionale ma non più di tanto poi soprattutto nel caso della rupes nano hybrid in configurazione col collo corto probabilmente è anche più piccola della flex stessa diamo anche un'occhiata ai ai pesi prendiamo una piccola bilancia da cucina accendiamo e vediamo il peso della della flex 970 grammi entrambi in configurazione con il platorello da 30 mm in modo da lavorare confrontarle in una maniera più coerente possibile 730 a favore della della nano hybrid quindi questa è molto più leggera molto 200 grammi abbondanti in meno diamo anche un'occhiata un pochino alle rumorosità delle delle macchine utilizzeremo un'app per cellulare chiaro non è una misurazione attendibile ma più o meno ci dà un'idea del rumore che fanno le macchine 95 di picco 91 di media vediamo la flex come si comporta 92 87 effettivamente a prescindere dalla misurazione mi sembra un pochino più silenziosa la flex anche pochi decibel chi è esperto del settore sa che sono comunque rilevanti ora non voglio dire che sia rumorosissima però è un pochino più acuto il suono della della bigfoot quindi nel caso in cui la dovessimo utilizzare per tempi molto prolungati potrebbe dare un pochino di fastidio questi sono insomma ragazzi i dati che mi sentivo di confrontare non parliamo assolutamente di potenza perché come dicevamo è difficile fare un paragone io vi posso dire questo una prova empirica se mettiamo la macchina al massimo e proviamo a bloccare la rotazione in senso rotatorio c'è una lieve sensazione di potenza maggiore nel caso della flex anche il peso c'è una bella differenza ma è anche vero che qui abbiamo una potenza una durata della batteria potenzialmente maggiore di un 20 per cento quindi comunque parliamo di macchine molto simili solo il tempo e le opinioni dei professionisti ci potranno dire se davvero le dimensioni differenti della testa possono diventare un ostacolo per quanto riguarda la flex bene ragazzi spero che questo video vi sia utile se lo è stato vi chiedo di mettere mi piace come al solito scrivete pure qui sotto se volete risposte ad altre domande arrivederci alla prossima puntata